Solidarietà ai lavoratori di Fincantieri e parole dure contro il governo Monti. Sono state espresse dal segretario nazionale di rifondazione comunista Paolo Ferrero, oggi in visita a Genova. Ferrero parla di manovra iniqua, recessiva e inutile e chiede di spostare gli investimenti dalla TAV e dalla gronda genovese verso impianti per l'energia pulita. Sentiamo l'intervista. La situazione è vergognosa perché che ci sia la cassa integrazione è il minimo, questa è la legge italiana. Il problema è che il governo ha il dovere e l'obbligo di fare delle politiche industriali, ce l'avrebbe in generale, ma ce l'ha tanto più su una società che è sostanzialmente pubblica e che quindi non è che si può dire alla gente chiudiamo e poi vediamo cosa succede. Ecco c'è però anche in questa vicenda una spaccatura tra i sindacati, anche questo è un momento in cui non si riesce a gestire unitariamente la situazione. Guardi io non so più cosa dire nel senso che la Cis e la Will è già tanto chiamarli sindacati, cioè obiettivamente c'è la CGL, c'è la FIOM in campo e i lavoratori stanno con la FIOM che dice le cose giuste che le fa e noi appoggiamo la FIOM ai lavoratori. Soltanto dal punto di vista della politica industriale che manca, merita critiche il governo Monti? No, il governo Monti io penso che è un governo di destra che fa sotto dettature le cose che gli chiede la Merkel. Monti non fa gli interessi dell'Italia, Monti fa gli interessi della destra tedesca. Il rischio default secondo lei a questo punto, la polemica sullo spread, che cos'è, oppure per i popoli, armi di distrazione di massa, non sono rischi concreti, non li vede come rischi concreti? Il rischio di infallimento? No, oggi c'è. Il problema è che la banca centrale potrebbe, se vuole, come fa gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'India, il Giappone, la Cina, come fanno tutti, finanziare direttamente all'1% gli stati e in quel modo finirebbe il rischio. Io temo che loro stanno usando la speculazione come minaccia per obbligare i lavoratori ad accettare delle stangate che altrimenti non accetterebbero, a partire da quelle delle pensioni, e che poi alla fine di tutte queste stangate il rischio è che l'euro salta lo stesso.